Sarà convocato per la settimana prossima in seduta straordinaria il Consiglio Comunale di Vigonza dopo i gravi fatti avvenuti la notte tra il 30 aprile e il 1 maggio, quando sono state date alle fiamme le due auto del capo ufficio tecnico del Comune. Il Consiglio Comunale in seduta straordinaria vuole esprimere solidarietà unanime a Enzo Ferrara per l'attentato subito e condannare questi vili atti intimidatori. Nel frattempo continuano le indagini della Procura di Padova che ha inglobato nel fascicolo d'indagine anche un precedente molto simile che aveva coinvolto sempre il capo ufficio tecnico di Vigonza, ovvero l'incendio di una catasta di legna vicino alla sua abitazione di via Rigato. Il Pubblico Ministero, in attesa delle verifiche dei vigili del fuoco, vuole mettere insieme tutte le intimidazioni e le minacce ricevute in passato dal dipendente comunale, compreso un presunto speronamento avvenuto a fine 2023, denunciato ad inizio anno, come ricordato nell'esposto presentato in Procura anche dal sindaco di Vigonza, Gian Maria Boscaro. L'inchiesta vuole capire se ci sia un legame tra tutti questi episodi e se dietro ci sia un'unica mano, ritorsione legata ad un presunto abuso edilizio che doveva essere smantellato dopo la decisione del Tribunale.